Musica Questioni migranti, Italia Unione Europea, attacchi all'Italia dalla Francia, il convento di Lorenzo Peluso, sala consiglina e il comitato nazionale a colloquio con il premier Conte, l'avvocato Giordano stoppa al trasferimento di uffici nell'ex tribunale, cilento, golfo di Policastro, ettari di terreno in fiamme, puliamo il mondo, tanti comuni del comprensorio sensibili al tema ambientale, calcio nel fine settimana, la quarta giornata dei campionati di eccellenza e promozione. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Uno News. La vicenda migranti in primo piano, legata soprattutto all'accoglienza, ha suscitato duri attacchi nei confronti del governo italiano da parte della Francia. attacchi e offese che per Lorenzo Peluso venivano rivolti al nostro paese in maniera gratuita e non meritata. Per Peluso, in un suo scritto, ricorda al premier francese Macron come l'Italia si sia lasciata sola alle spalle dall'Europa e soprattutto sul tema dell'accoglienza poca collaborazione c'è stata da parte di Bruxelles e degli altri paesi europei. Per questo motivo, Lorenzo Peluso sottolinea che l'Italia è sotto l'attacco dell'Europa che non vuole la crescita e attacca anche una strategia che, a suo dire, avrebbe svenduto il nostro paese. Ma ascoltiamo le opinioni di Lorenzo Peluso. Credo davvero che non rendiamo un grande servizio alla comunità, ai lettori, alla gente, se anche noi della stampa non troviamo la forza di raccontare come davvero stanno le cose, insomma, la verità dei fatti. Se non lo facciamo, semplicemente perché, mossi da una certa distanza ideologica dall'attuale governo giallo-verde, preferiamo non affermare le buone ragioni di decisioni assunte in tema di migrazioni, allora il danno è assolutamente doppio. La questione, credo sia fin anche troppo semplice, possiamo consentire a paesi come la Francia di alzare la voce sull'operato del governo italiano, non evidenziando contestualmente la propaganda amplificata a livello globale di circostanze assurde e ridicole. Insomma, se da un lato tutti sembrano aver dimenticato, solo perché è utile cavalcare l'onda antisalviniana che l'Italia ha accolto ed accoglie migranti, se ne prende cura, li gestisce, li ospita, da anni in verità, contestualmente diamo risalto ad un accordo ridicolo raggiunto nelle ultime ore a livello europeo per la gestione e la sistemazione di, pensate un po', 58 migranti. Sì, 58 migranti. Ci si accorda tra stati per la sistemazione del collocamento di 58 persone. Insomma, un autobus per capirci. Buon cuore certo quello del Portogallo, che ne accoglierà 10 e gli altri saranno accolti tra Francia e Spagna. Senza dimenticare che in questo accordo entra anche Malta, sì, proprio Malta, che recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. Un accordo, così ha spiegato il ministro dell'interno di Lisbona, preso in modo solidale e concertato con Spagna e Francia, con la Germania pronta a collaborare. Sono i migranti a bordo dell'Aquarius 2. I migranti saranno sbarcati in acqua internazionali, trasferiti a Malta e distribuiti poi nei quattro paesi europei. Malta e Francia, ancora una volta, si fanno avanti per risolvere le impasse dei migranti. Così ha scritto il premier della Valletta, Joseph Muscat. L'Italia in questo rimane l'ostacolo, il paese che non collabora. Questo pensano i nostri paesi alleati europei. Incredibile ma vero. Mentre nel nostro paese per anni sono sbarcati migliaia e migliaia di migranti di cui ci siamo presi cura, al punto che in ogni città, in ogni piccolo comune, anche i più piccoli davvero, sono stati creati centri di accoglienza e permanenza di richiedenti asilo, mentre da anni chiediamo la solidarietà dell'Europa nel gestire questa marea senza fine di disperati che arrivano sulle nostre coste, nell'indifferenza generale, oggi, solo oggi, che quattro paesi si prendono cura per accogliere e sistemare un autobus di persone, beh, oggi questa è accoglienza, solidarietà e concertazione. Quel che però mi indispettisce di più, ma per davvero, e non me ne vogliano i colleghi della stampa, è che piuttosto che difenderlo il nostro paese, insomma, piuttosto che ricordare al mondo quanto abbiamo fatto e facciamo in tema di immigrazione, basterebbe citare solo lo sforzo e la benegazione dei lampedusani, diamo voce e spazio alle parole di Emmanuel Macron, che ancora una volta ha la sfrontatezza di usare toni duri nei confronti del nostro paese. C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa, così ha detto Macron. L'Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali ed in particolare quelle umanitarie del mare, secondo cui, quando una nave è in una situazione umanitaria, va nel porto più vicino. Parole pesanti, pronunciate dal presidente francese a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York, ma la sfrontatezza di Macron supera ogni fervida immaginazione quando sostiene che grazie al suo impegno si è riusciti a strappare una soluzione europea al problema. Lo fa, incredibilmente ma vero, dopo che il governo francese si è opposto alla richiesta rivolta agli ieri da SOS Mediterranei di far sbarcare, eccezionalmente, l'Aquarius a Marsiglia. Insomma, non vi è davvero limite all'indecenza. La questione è davvero complessa, sia chiaro. L'Italia è davvero sotto attacco a livello europeo da parte di paesi che non hanno altro interesse se non quello che l'Italia non risorga, non cresca, insomma, non campi strategia. Quella stessa strategia che ha svenduto sui tavoli internazionali il nostro paese, accontentato con la nomina della Mogherini, ad esempio, è lasciato solo a gestire per anni migliaia di migranti. Conviene a molti che l'Italia venga isolata. Si badi bene, però, la mia non è una difesa d'ufficio al governo Conte o al ministro degli interni Salvini. Le questioni politiche aperte nel nostro paese rimangono e certo meritano risposte e soluzioni. Ma certo, non possiamo e non dobbiamo consentire che si faccia politica a spese dell'Italia perché in primavera ci saranno le elezioni europee. E qui, infatti, la vera partita che si giocherà per il futuro dell'Europa. Un'Italia forte ed autorevole a Bruxelles costringerà Berlino e Parigi, ma anche Lisbona e Madrid, a cambiare passo. Occorre ricordare forse a Macron come opera la gendarmeria sul confine di Ventimiglia. Occorre ricordare alla Spagna quel che accade sul confine con il Marocco. Insomma, forse amare il proprio paese significa anche difenderlo oltre alle proprie posizioni ideologiche, semplicemente perché nessuno può mettere in discussioni le scelte e le visioni di un popolo, se non lo stesso popolo. Gli italiani misureranno l'operato della politica italiana. Qua praticamente si regheranno alle urne e giudicheranno scelte e decisioni, cose fatte e promesse non mantenute con l'espressione legittima del voto. A isoloni stranieri, francesi innanzitutto, che tentano di dare lezioni al nostro paese, occorre quindi rispondere semplicemente con un rien ne va plus, le j'ai son fait. Ed ora la cronaca locale. Grave incidente questa mattina a Villa Mare di Vibonati sulla statale 18. Sembrano gravi le condizioni di un 37enne di San Giovanni a Piro. Lo scontro è avvenuto tra un pick-up con a bordo un 41enne di Torraca e lo scooter su cui viaggiava appunto il ragazzo che è stato prima portato all'ospedale dell'Immacolata di Sapri e poi successivamente trasferito al San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto la polizia stradale di Sapri per verificare la dinamica dell'incidente. Andiamo avanti. La questione tribunale si continua a combattere per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina. L'avvocato Elisabetta Giordano, membro fondatore del Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità, attraverso il presidente del Comitato, ha portato a conoscenza del Premier Conte del caso Sala Consilina. Intanto chiede di bloccare i nuovi trasferimenti di uffici presso l'ex tribunale per scongiurare che occupando questi uffici poi dopo non si possa più pensare ad una riapertura del presidio di giustizia nel territorio valdianese. Non ci si arrenda la chiusura del Tribunale di Sala Consilina soppresso nel 2013. La delibera dell'amministrazione comunale salese per il trasferimento presso l'ex Palazzo di Giustizia del Centro per l'Impiego vede in queste ore l'intervento dei referenti del Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità chiedere una sospensione della stessa. Cinque anni fa l'accorpamento di Sala Consilina al Lago Negro imbarba la legge delega che imponeva accorpamenti nell'ambito della stessa provincia, della stessa Corte d'Appello. Il Tribunale salese è stato accorpato fuori provincia, fuori Corte d'Appello e fin anche fuori regione. A difendere le ragioni del Tribunale di Sala Consilina l'Avvocato Elisabetta Giordano, membro del Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità, che ha fatto giungere alla conoscenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la vicenda di Sala Consilina in occasione della sua visita nel paese nativo Vulturare Appula, dove ha avuto modo di incontrare il Presidente del Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità, l'Avvocato Agnus Dei Giuseppe, che ha chiesto al Premier Conte di predisporre un colloquio con il Ministro della Giustizia per ridiscutere la soppressione dei Tribunali minori, peraltro tema inserito nel contratto di governo. La riforma della geografia giudiziaria, spiega Elisabetta Giordano, è stata fortemente penalizzante soprattutto per il Vallo di Diano, emblema di ingiustizia, di particolarismi e interessi politici, provocando la desertificazione di questa importante zona, che per posizione geografica continua era invece aperta allo sviluppo con grave danno per Sala Consilina, che ha perso il suo ruolo di centro portante del Vallo di Diano. In virtù di queste azioni, i referenti del Comitato Salese chiedono la sospensione della delibera di trasferimento nel Tribunale del Centro per l'Impiego. Tale deliberazione, come passati trasferimenti, scrivono, appare incompatibile con la volontà di sostenere la riapertura del Tribunale, rischiando di pregiudicare il ripristino. Bisogna ricominciare a governare nell'interesse del territorio, continua Giordano, sospendere ulteriori trasferimenti nella sede del Tribunale, individuando nuovi locali per gli uffici oggi ubicati nel Palazzo di Giustizia, in vista di un suo possibile ritorno. Sarebbe imperdonabile se l'affrettata occupazione della sede determinasse la definitiva perdita del nostro illustre Palazzo di Giustizia. Spostiamoci a Salerno. Oggi è il giorno della sentenza del processo Crescent. 22 gli imputati, tra cui anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all'epoca dei fatti, sindaco di Salerno. In caso di condanna, per il governatore scatterebbe la legge Severinino e dunque di conseguenza la sospensione dell'incarico. È attesa per oggi la sentenza per i 22 imputati del processo Crescent, ma se l'udienza si proterrà a lungo per dare possibilità anche alle difese di replicare, il collegio potrebbe entrare in Camera di Consiglio anche domani mattina. Tra coloro che attendono imputato del processo c'è anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, all'epoca delle contestazioni giudiziarie che nell'ultima udienza estiva, prima delle sentenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee ai magistrati che riguardavano in particolare il contesto in cui venne approvata la trasformazione urbanistica dell'area di Piazza della Libertà. Il processo assume particolare rilevanza politica in quanto, in caso di condanna per abuso d'ufficio di Vincenzo De Luca, in base alla legge Severino, scatterebbe la sospensione dalla carica di governatore. Due le opzioni possibili già immaginate in questo caso. La prima, quella più logica, prevede la promozione di Fuglio Bonavitacola da vicepresidente al reggente per la Campania. Un'altra, più suggestiva, vede la nomina d'ex numero uno dell'antimafia, Franco Roberti, già inorganico alla squadra di governo di De Luca. Il processo che va avanti da circa tre anni vede imputati, oltre all'ex sindaco di Salerno, per falso ideologico, abuso d'ufficio e reati urbanistici, anche componenti della giunta comunale dell'epoca e diversi tecnici. I PM Alfano e Valenti hanno chiesto la condanna del governatore a due anni e dieci mesi di reclusione, in quanto le violazioni compiute da lui e dalla sua giunta sono in parte di tipo politico ed in parte di tipo amministrativo, in quanto non si riesce a comprendere quale sia l'interesse pubblico nella realizzazione di appartamenti residenziali e di lusso. Trasferiamoci nel Cilento. Sono giorni di coda d'estate brutti per quanto riguarda il profilo legato agli incendi boschivi. Nel mese di settembre tanti gli ettari di terreno andati in fiamme dal nord a sud del Cilento e ieri è toccato anche al golfo di Policastro. Sembrava un'estate apparentemente tranquilla quella sul fronte degli incendi boschivi, ma una serie di episodi nelle ultime settimane hanno devastato la vegetazione. Le aree colpite sono il Cilento e il golfo di Policastro, dove in questi giorni è tornato intenso il lavoro per spegnere le fiamme. Una serie di incendi dunque ha tentato di riequilibrare il bilancio positivo che quest'anno si stava registrando. A settembre infatti è scattata l'emergenza da Camerota a Pollica, passando per Pisciotta, Castellabate, per Rifumo, Monte Corice. Le ultime settimane di migliaia di ettari di vegetazione sono andati in fumo. Nella frazione Licusati di Camerota sono andati distrutti 30 ettari di verde, a Pisciotta la scorsa settimana, macchia mediterranea e olivi in preda alle fiamme. Poi negli ultimi giorni il teatro dei roghi sono stati Castellabate, per Rifumo e Monte Corice. In quest'ultimo caso le fiamme hanno raggiunto zone difficilmente raggiungibili via terra. Infine ieri a Pollica le fiamme hanno fatto danni e si sono avvicinati ad una chiesa nel golfo di Policastro. Poi ieri vincendio in località serriere a Dispani, dove complice anche la forte azione del vento, le fiamme si sono rapidamente propagate e hanno bruciato tutta la vegetazione del posto. E non poche sono state le difficoltà dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino che per diverse ore hanno lavorato cercando di mettere in sicurezza la zona ed evitare che le fiamme potessero giungere nei pressi delle abitazioni. La coda d'estate dunque sta regalando purtroppo una serie di episodi spiacevoli che giocoforza incidono sull'ambiente e rischiano di ledere in modo considerevole. Spostiamoci a Castellabate, dove il consigliere di minoranza Alessandro Lo Schiavo scrive al primo cittadino accusandolo di aver solo promesso sceneggiate. 8 anni di amministrazione Spinelli, dice Lo Schiavo, un tour per promuovere la realizzazione del piano urbanistico comunale senza però vedere raggiunti i risultati. Lo Schiavo accusa l'amministrazione di non avere alcuna intenzione di mettere in campo una politica urbanistica così come è spesso promesso. Sono passati circa 8 anni dal vostro insediamento e del PUC non c'è traccia, a parte quella teatrale comicità in tour che all'epoca avete promosso e quanto sostiene il capogruppo di opposizione del comune di Castellabate Alessandro Lo Schiavo in una lettera indirizzata al primo cittadino costabile Spinelli per capire le motivazioni secondo le quali l'amministrazione comunale non è ancora riuscita ad adottare il PUC. Chi non ricorda di come agitavate la bacchetta, di come la puntavate alla lavagna, di come giravate in lungo e largo Castellabate, alla ricerca del consenso proiettando le immagini della nuova Castellabate, allargando, diminuendo o modificando i perimetri delle nuove destinazioni urbanistiche, continua Lo Schiavo. Al momento del vostro insediamento, era il 18 maggio 2011, avete trovato il PUC sostanzialmente definito, bastava solo esaminare le poche osservazioni prodotte e aggiunge, un PUC condiviso da tutti che permetteva di sviluppare realmente un territorio come il nostro, specifica il consigliere, secondo il quale sarebbe bastato convocare il consiglio comunale e approvare in via definitiva il PUC. Invece, spiega Lo Schiavo, non solo la delibera di consiglio non è stata mai approvata, ma si è messo a repentaglio l'intero piano urbano, perché nell'agosto del 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento regionale, il quale ha previsto che i comuni che a quella data avevano adottato il PUC procedevano nel loro iter, mentre quelli che non avevano ancora provveduto dovevano adeguarli al nuovo regolamento. Secondo il consigliere Lo Schiavo, il tutto avrebbe quindi determinato un angravio di spese a carico dei cittadini, perché il progettista incaricato aveva lavorato e prodotto il PUC. Il PUC è ormai finito, messo all'angolo da un'amministrazione che non ha avuto nessuna intenzione di mettere in campo una politica urbanistica, che avrebbe armonizzato un territorio come il nostro, di care il consigliere, chiedendo poi di rilanciare il PUC e riprendere il piano per aggiornarlo alle nuove disposizioni normative regionali e nazionali. Andiamo avanti, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, meglio nota come ASMER, sostiene azioni volte al miglioramento della qualità dei servizi erogati dagli enti stessi e si occupa di promuovere le buone pratiche in ogni settore. Tra questa è intervenuta di recente anche la questione mensa scolastica con il sistema caggiano della mensa a chilometro zero da prendere ad esempio per tutti i comuni. Vediamo. L'Asmel, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, sostiene da sempre tutte le azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati dagli enti stessi e promuove quindi le buone pratiche in ogni settore. È intervenuta di recente sulla questione mensa scolastica, invitando a preferire i prodotti del territorio, quelli a chilometro zero, come da oltre dieci anni sta facendo il comune di Caggiano. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, scrivono dalla pagina Facebook dell'Associazione, si ripropone il dibattito sulla refezione scolastica che vede contrapposti i sostenitori del passo libero portato da casa a quelli che invece preferiscono la scelta, anche sociologica, di un menu unico offerto dalla scuola. La nostra proposta è di puntare sui prodotti a chilometro zero, scelta che consentirebbe un risparmio fino al 50% dei costi, passando dalla media attuale di 5 euro a 2,50 euro. La refezione scolastica con prodotti del territorio è una prassi già adottata da alcuni comuni italiani ed è riuscita a mettere d'accordo genitori e istituzioni, oltre che supportare e sviluppare l'economia del territorio. Tra le esperienze già attive e positive che vedono in uso la prassi c'è Caggiano. Il comune ha adottato un sistema ormai collaudato grazie al quale tanti prodotti locali vengono consegnati dalle famiglie stesse dei bambini fruitori del servizio mensa scolastica. Per i prodotti che richiedono la trasformazione, come ad esempio il pomodoro, per ottenere la passata, vengono utilizzati i laboratori locali autorizzati. È stato creato così un circolo virtuoso basato su una moderna formula del baratto che consente alle famiglie, in grado di consegnare i prodotti del proprio orto, pomodori, ortaggi, legumi, frutta, di scambiarli con le quote del servizio a proprio carico, avendo la certezza della qualità di ciò che i propri bambini si ritroveranno sulla tavola scuola. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria a tra poco. Seconda parte dell'edizione serale delle Uno News. Ripartiamo dall'iniziativa che ha coinvolto diversi comuni del Vallo di Diano in tema ambientale. Si tratta di Puliamo il mondo, l'edizione 2018 che ha inizio in questo fine settimana. Come di consueto il nostro territorio risponde presente a questa iniziativa. Tante hanno coinvolte le scuole, in particolare a Sassano e Monte San Giacomo, dove siamo stati questa mattina. Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento con le giornate nazionali di Puliamo il mondo di Lega Ambiente, l'edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del pianeta. Una gigantesca campagna di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti, rivolta soprattutto alle nuove generazioni. Come di consueto molti comuni del comprensorio hanno aderito all'iniziativa coinvolgendo proprio i giovani, i ragazzi delle scuole, quelli del servizio civile, piuttosto che di garanzia giovani, molti dei quali impegnati in progetti legati alla tematica ambientale. L'iniziativa è spalmata sui tre giorni del weekend, ma già dalle prime ore di stamattina è iniziata alla lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati. A Monte San Giacomo è stata ripulita la villa comunale Rico 40 e tre diverse zone del centro storico, dai ragazzi della scuola primaria locale, accompagnati dagli insegnanti, dagli amministratori e tanti volontari. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha inteso aderire a questa bella iniziativa promossa da Lega Ambiente che si svolge nelle giornate di oggi, domani e dopodomani. Abbiamo scelto questa di venerdì e abbiamo trovato, come da qualche anno accade, l'adesione convinta anche da parte della scuola, quindi della dirigente, degli insegnanti. Quindi quest'anno sono coinvolte la classe quinta elementare, prima, seconda e terza media. Beh, sicuramente sarà una bella giornata. I giovani, diciamo così, li sensibilizziamo anche alla pulizia, all'educazione civica. Ecco, e quindi quando torneranno a vivere quei posti che in questo momento puliscono, sicuramente li vivranno con un'attenzione diversa. Ecco qua. Muniti di cappello, guanti, pettorine e sacchetto sono scesi in campo a ripulire strade, giardini e piazze anche i ragazzi delle scuole di Sassano, che prima si sono concentrati sulla pulizia della villa comunale Falcone Borsellino e poi del centro storico. Anche qui sotto l'occhio vigile degli insegnanti e degli amministratori e con la collaborazione dei ragazzi del servizio civile. Sassano non poteva mancare a questo importante appuntamento, soprattutto perché Sassano è un paese appunto dove c'è il massimo rispetto dell'ambiente e noi vogliamo che sin da bambini e soprattutto nelle scuole si insegni e invoglino i bambini appunto al rispetto dell'ambiente. Quindi anche quest'anno abbiamo coinvolto qui nella villa comunale i bambini di quindi elementare, mentre dopo andremo nel centro storico dove saranno coinvolte le prime medie. Ho sempre voluto che anche il centro storico fosse partecipe dell'iniziativa perché è giusto che i bambini vadano anche nel centro storico e soprattutto conoscono anche il centro storico perché anche il centro storico ha bisogno appunto di essere a volte ripulito. Questa mattina anche gli alunni delle scuole di Padula e Caggiano hanno dato il loro contributo nella pulizia dei rispettivi centri storici. Domani mattina toccherà ad Atena Lucana. Coinvolgendo i ragazzi insieme con amministratori e associazioni, i comuni che aderiscono all'iniziativa sposano la causa di Lega Ambiente nel provare a rendere migliore il nostro territorio, sensibilizzando alla partecipazione attiva necessaria quando si parla di rispetto per l'ambiente e alla valorizzazione dei beni comuni. Compuliamo il mondo lo si fa attraverso un momento di socialità e condivisione che vede operare insieme giovani e meno giovani, cittadini e istituzioni. Apriamo ora il capitolo sportivo. Siamo alla vigilia di un nuovo turno di campionato per l'eccellenza e la promozione campana. Siamo alla quarta giornata e tanti gli impegni per le salernitane di cui scopriamo le sfide nel prossimo servizio. Turno di campionato alle porte per le formazioni di eccellenza e promozione nel massimo torneo regionale debut davanti al proprio pubblico l'Agropoli che riceve il Castel San Giorgio e cerca altri tre punti dopo quelli ottenuti sulla Palmese. Palmese che in settimana ha visto le dimissioni del tecnico Criscuolo, un punto in tre gare e al suo posto al timone è giunto Vincenzo Lamanna, il quale cercherà il risultato pieno nella sfida esterna sul campo del Faiano che ha tesserato in settimana l'ex centrocampista della Sessana, Alessio Cagliazzo. Scontro al vertice tra Polisportiva Santa Maria e Audax Cervinara al Carrano, mentre dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato la battipagliese di Pietropinto cerca il bis in caso del Costa del Marfi. Trasferta che sarà il risconto diretto per il Valdiano, ospite delle Granese con i Blaugrana, chiamati ad una risposta dopo la sconfitta in terra di sette giorni fa. A chiudere il programma San Tommaso San Vito Positano, Sant'Agnello Solofra e Scafatese Virtus Avellino. In promozione girone di e caccia invece alla Picciola e Calpazio capoliste con la prima attesa dalla delicata trasferta sul campo del Salernum, mentre i capacesi ospitano tra le Muramiche il Giffoni Secasali, matricola terribile. Salernum e Giffoni Secasali sono un solo punto dalla testa del girone, così come il Buccino Volcei, impegnato sul campo della Temeraria, Langri di scena in casa della Rocchese e il Centro Storico Salerno, ospite dell'Acquavella. Almeno stando all'attuale classifica e scontro diretto tra Giffonese Poseidone e Sporting Ponte Cagnano Campagna, completa il programma gare San Mauro. Il weekend che sta per arrivare è anche il weekend dedicato alla Coppa Italia di prima categoria. Si parte dunque per le squadre del terzo torneo regionale. Per quanto riguarda le squadre del Vallo di Diano in campo, il Sassano con volti nuovi, lo stesso tecnico e un mix che punta ai playoff. al Postiglione. Debutto in casa nella girone 29 il Sassano che sfida il Rocrano domenica pomeriggio al Comunale. La squadra di patron Ricciardone torna a casa dunque. Una squadra nuova e ricca di ragazzi del posto affidata all'esperto tecnico Cammarano. Questo è il mix creato dalla DS Graziano Vocca per tentare l'assalto ai playoff. Abbiamo fatto una preparazione diciamo matticcia proprio perché gli impegni saranno tanti e il campionato sarà ancora più forte. Abbiamo puntato su elementi locali. Questa è la novità forse per il primo anno che il Sassano calcio punta su ragazzi della zona perché malauguratamente è venuto meno delle squadre locali per cui abbiamo puntato un poco su questi ragazzi locali. Poi da fuori abbiamo puntato anche su ragazzi molto esperti del campionato e cercheremo di fare un campionato diciamo ripetere un campionato come quello dell'anno scorso stando sempre nelle prime posizioni e magari tentare di nuovo i playoff per fare per salire diciamo in promozione. Nel girone 29 di Coppa Italia con Sassano e Rofrano c'è Leraion che riposa a completare le sfide dei gironi della provincia sud di Salerno, Atletico Faiano-Lincinella, Alphanesere-Lagropoli e Atletico Pisciotta-Vellina. Con la pagina sportiva noi chiudiamo questa edizione serale delle Uno News. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.